turismo il ferragosto non salva un'estate deludente anche il caro carburante pesa sull'estate dei vacanzieri controlli del weekend 20 ragazzi sorpresi in possesso di droga ad urbino partita la demolizione del liceo raffaello i giovani e i pericoli del web con 45 giorni in rete telespettatrici telespettatori di rossini tv benvenuti a questa edizione di rossini news che oggi giovedì 17 agosto apriamo occupandoci di turismo e di una stagione estiva che nella provincia di pesaro urbino sta registrando un calo sostanzioso di presenze come analizzato in questa intervista dal presidente di con commercio marche nord amerigo varotti ferragosto tradizionalmente è appunto l'apice della stagione balneare e quindi il momento in cui gli alberghi sono pieni quest'anno a differenza ad esempio di anno scorso c'erano camere disponibili camere libere sia a fano che pesano gabice mare quindi anche da questi pochissimi giorni ferragostani si capisce che è una stagione andata male per il momento giugno è stato un mese pessimo forse anche per le condizioni meteo l'alluvione in emilia romagna luglio calo vertiginoso rispetto ai dati del 2022 la prima settimana ad agosto bruttissima forse una delle più brutte che io ricordi almeno degli ultimi 15 anni e per fortuna ci sono stati quei tre quattro giorni di ferragosto però i tre quattro giorni di ferragosto non fanno una stagione si conferma la difficoltà per il nostro territorio ma direi per l'intero paese perché poi analizziamo i dati la puglia è in regresso il veneto salvo un paio di località perde il 20 per cento l'emilia romagna forse anche di più quindi è un la sardegna la puglia sono dati preoccupanti del sistema paese che non regge non regge a causa dei costi che gli italiani non possono più sopportare non si capisce per quale motivo il costo del carburante debba essere così alto la risposta del ministro urso è stata quella di obbligare i benzinai che non c'entrano nulla nel nella formulazione del prezzo obbligarli a mettere su un cartello inutile quando invece in italia ci sono dieci aziende che raffinano il petrolio sono dieci queste non sono state nemmeno convocate e sono loro che fanno il prezzo quindi c'è un una disattenzione da parte governativa su una speculazione fortissima che mette in crisi ha messo in crisi italiani insieme all'aumento dei costi bancari anche qui la bce per abbassare l'inflazione per annullare l'inflazione sta annullando l'economia i mutui per l'acquisto della macchina o i mutui per l'acquisto della casa sono quasi triplicati quindi è chiaro che in questa situazione le famiglie hanno poca disponibilità per fare vacanze hanno poca disponibilità per andare nel ristorante ed è un contesto generalizzato che svilisce anche i vostri impegni con commercio da anni a questa grosso impegno nella promozione territoriale parlo dell'itinerare della bellezza ma posso parlare anche dell'impegno che ha pesero verso la promozione di capitale della cultura 2024 suona come una beffa avere questo 2023 così sottotono sì noi abbiamo fatto come gli anni precedenti d'altra parte tante iniziative per promuovere il nostro territorio le aspettative in primavera erano ottime c'erano prenotazioni c'erano richieste di informazioni quando si andava nelle fiere c'era una grande attenzione nei confronti del nostro territorio e delle marche e poi è successo la disattenzione governativa nei confronti dell'aumento spropositato dei costi le famiglie non possono sopportare costi del genere e fanno vacanze brevi scelgono le mete meno care l'esplosione dell'albania di cui tutti parlano deriva proprio da questo quindi una situazione di grave difficoltà noi continuiamo la promozione anche nei prossimi giorni con tante iniziative fieristiche da torino a colmare in francia parigi rimini e pestum però ovviamente se non si rimettono in tasca agli italiani soldi difficile e tra i rincari citati da varotti nell'intervista di poco fa c'è sicuramente quello del carburante che anche a pesaro da inizio mese ha visto continuamente i prezzi salire diesel stabilmente sopra un euro e otto benzina sopra un e nove e prezzi che schizzano regolarmente sopra i due euro per il servito e che salgono ulteriormente varcato il casello dell'autostrada anche pesaro non è immune dal caro carburante che da 17 giorni vede in tutta italia in costante crescita i prezzi ai distributori in concomitanza con l'esito dei vacanzieri si tratta dell'ennesimo rincaro che grava sulle tasche dei consumatori e che non fa sorridere nemmeno i gestori abbiamo le copie petrolifere che ci determinano i prezzi di vendita e quindi non abbiamo modo di poter gestire questi grossi aumenti ci sono stati e sicuramente parte dell'aumento è dovuto alla richiesta maggiore di prodotto perché tanto durante gli esodi c'è un consumo maggiore e quindi se c'è un consumo maggiore il prezzo un po' si incrementa anche per quello ma è anche dovuto al fatto che il mercato generale è molto iltabile e quindi tutte le motivazioni sono giuste per poter aumentare ma questi comunque questi aumenti qui ci sono sempre stati nel senso che durante il periodo del tivo quando ci sono gli esodi da sempre che i carburanti sono aumentati anche molte volte anche anticipatamente cioè prima dell'esito perché prima quindi della domanda e qui quindi ci sono delle speculazioni il problema è che queste cose qui dovrebbero essere studiate e controllate molto meglio dall'orgio di proposti perché non c'è modo noi di poter fare nulla e ci dispiace molto che i clienti alcuni se la prendono anche con noi pensando che siamo noi la causa di questi aumenti e noi invece subiamo come loro perché noi non è che abbiamo anzi più il prodotto costa poco e più ne vendiamo e noi siamo pagati a litri quindi noi abbiamo solo il vantaggio se ci costa meno il giro d'affari e ci costa meno le singole autobutti quindi noi abbiamo solo il vantaggio quando i prezzi aumentano così. Siamo già al picco di questi prezzi per quello che è la vostra conoscenza o deve ancora arrivare? Questo non glielo so dire perché secondo me ancora aumenterà qualcosa però non è solo il mio intuito non abbiamo modo noi di poter capire le motivazioni e se queste motivazioni si sono esaurite o se i prezzi ancora aumenteranno. Arresti, denunce, sequestri di droga e segnalazioni alla prefettura. Questi i risultati dell'intenso lavoro dei carabinieri di Pesaro, Fano e Urbino durante queste festività di Ferragosto. Il servizio. Mille persone e 700 veicoli controllati, due arresti e 20 ragazzi fra i 18 e i 20 anni sorpresi in possesso di droghe nei pressi di locali e discoteche con conseguenti segnalazioni alla prefettura. E' questo il bilancio dei massicci controlli dei carabinieri di Pesaro, Fano e Urbino durante le festività di Ferragosto. Controlli che hanno portato a sequestrare complessivamente 100 grammi di hashish e 30 di cocaina. Gli sono stati anche due arresti a Pesaro e Fano per altrettante persone colte in flagranza di reato di spaccio, così come due persone denunciate in stato di libertà, una delle quali sorprese mentre cedeva droga a un minorenne. E inoltre uno straniero è stato denunciato per non aver ottemprato un decreto di espulsione e altri due sono stati segnalati a piede libero all'autorità giudiziaria per furto di rame e minacce. Altri tre giovanissimi sono stati denunciati a Pesaro in quanto sorpresi in sella, scute risultati rubati e poi restituiti ai legittimi proprietari. Altri quattro ragazzi sono stati deferiti per guida in stato d'ebrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Servizi di controllo alla circolazione stradale che hanno visto elevare anche 60 contravvenzioni, ritirare otto patenti e sottoporre a fermo amministrativo quattro autovetture. Dopo ore di ricerca è stata ritrovata intorno a mezzanotte una famiglia belga di cinque persone che aveva perso l'orientamento durante un'escursione nei boschi attorno a Piobbico. La famiglia, padre, madre e tre bambini non riusciva a ritrovare il sentiero, ma è riuscita a geolocalizzare la propria posizione e a segnalarla a un amico residente in Belgio, amico che attorno alle 22.30 ha dato l'allarme. Sul posto si sono recati i carabinieri e i vigili del fuoco di Cagli che sono riusciti ad individuare la famiglia e a riaccompagnarla alla propria automobile. Le immagini che vi mostriamo ora vengono da Urbino, dove è entrata nel vivo la demolizione del liceo Raffaello. La scuola superiore dal 2019 ha denotato problemi strutturali e si è predisposto all'abbattimento e ricostruzione attraverso un progetto da 10 milioni di euro di fondi PNRR. La prima fase di lavori si protrarrà per circa due mesi, poi si procederà alla fase di ricostruzione che si spera di concludere entro il 2024. Parliamo ancora di scuola ma lo facciamo analizzando i rischi del web per i giovanissimi. Va in questo senso il libro dell'ex sindaco di Petriano Gianmarco Cecconi, nonché docente scolastico, che sarà presentato anche il prossimo 23 agosto nell'ambito del Festival Utopia all'Alberghiero Santa Marta. Questo è un libro che è frutto di una raccolta di esperienze, di grande studio e documentazione riguardo a un problema che io riscontro nella vita di tutti i giorni, nella mia professione, con i miei alunni e con i giovani di oggi, cioè i problemi della rete, legati alla rete. Questa è una raccolta di 45 pagine di diario, di 45 ragazzi diversi che sono state vittime di bullismo, di cyberbullismo oppure di pericoli della rete. Questo è un problema che noi che lavoriamo nel mondo della scuola, lavoriamo con i giovani, vediamo tutti i giorni e anche come genitori siamo impegnati ad affrontare problematiche per i nostri figli di questo. Quindi questo libro nasce dall'esigenza di raccontare soprattutto ai genitori quelli che sono i pericoli o le problematiche che i ragazzi affrontano a contatto con la rete, con la tecnologia, i pericoli che corrono e se noi li conosciamo siamo più incentivati o più preparati ad affrontare queste problematiche e a risolverle con i nostri figli, con i nostri ragazzi, con le nostre future generazioni. E questo libro è anche frutto di numerosi incontri che io ho fatto con i genitori o nelle scuole per affrontare questa tematica e quindi ho voluto mettere tutto in opera, in una pubblicazione, in un libro che spero sarà oggetto di confronto all'interno di scuole, associazioni e con tanti genitori e alunni. C'è anche la prefazione di Marco Lanzi che va a rafforzare comunque l'attenzione anche di un mondo quello delle forze dell'ordine che inevitabilmente si lega a questa tematica. Esatto, la prefazione di Marco Lanzi che ringrazio e di cui sono onorato rappresenta proprio questa collaborazione che io e lui attraverso la Polizia di Stato abbiamo fatto per affrontare al meglio e conoscere al meglio queste tematiche e anche vedere e spiegare ai genitori che queste problematiche possono essere risolte se si usano gli strumenti giusti e i canali giusti. Sabato 19 agosto si terrà a Fano la prima data di qualificazione per i mondiali di breakdance previsti a Taiwan il 9 settembre. Teatro dell'evento sarà l'arena BCC di Tre Ponti dove Lorenzo Grilli in arte B-Boy Zen e l'associazione culturale On Stage accoglieranno 200 ballerini provenienti da tutta Italia che si daranno battaglia per difendere i colori azzurri alla manifestazione intercontinentale. Ricordiamo che nel 2024 la breakdance diventerà anche disciplina olimpica. A Piobbico partono oggi le celebrazioni del 54esimo Palio dei Brancaleoni che si terrà alle pendici del Nerone fino al 20 agosto. Questa sera e domani è prevista dalle 21.30 la notte al castello. Sabato ci sarà l'apertura delle osterie e l'investitura dei cavalieri dei quattro rioni Carda, Castiglione, Pecorari e Rocca che la domenica si sfideranno nel vero e proprio palio diviso fra giochi come la Corsa dei Sacchi Ricerca della Pannocchia, Tiro alla Fune, Presa dell'Anello e Corsa dei Paggi Giocatori. Una domenica che sarà contrassegnata anche dal corteo in abiti rinascimentali di 250 figuranti. Da Piobbico a Carpegna, nel Palazzo dei Principi, dalla scorsa settimana si può apprezzare la quarta edizione di Carpegnart Artisti nel Montefeltro. Un'esposizione che sarà visitabile fino al 3 settembre. È la quarta edizione di una mostra che ha sempre più successo e siamo convinti che abbia un ruolo molto importante questa mostra nel nostro territorio. La cosa bella sono 52 artisti del nostro territorio, sono professionisti, docenti della Scuola di Scultura di Urbino ma anche giovani alla prima mostra. L'importante è anche avere dei ragazzi giovani che portano un messaggio nuovo e anche non professionisti. È un modo anche per tenere aperto il Palazzo dei Principi tutte le sere fino al settembre che la mostra chiuderà il 3 settembre. E questo ha quindi un obiettivo anche oltre che culturale, essendo una mostra d'arte, un obiettivo turistico, 6200 presenze l'anno scorso e il palazzo aperto alla sera. Probabilmente qualcuno entra anche per curiosità per vedere il palazzo di sera e quindi poi vede una mostra che secondo me è molto bella e di qualità. È curata dal maestro Giulio Serafini che ha fatto un ottimo lavoro anche quest'anno nelle quattro edizioni. Ogni anno è sempre nuovo. Ogni volta che vengo a Carpegna e inizio sto percorso rasetto tutto perché è una scommessa ogni anno arrivare alle ore 18 del giorno dell'inaugurazione con la mostra equilibrata e qui ne abbiamo tante di opere. Gli artisti non sono di livello mondiale ma io scelgo artisti e lì complemento soprattutto in questo palazzo il blocco diventa una cosa magica, un contenitore di emozioni che devono trasmettere al pubblico che viene qualcosa. Non è il singolo individuo. Lavoro nel mucchio. Come prima ho detto di sotto artisti giovani, artisti professionisti, naif, di tutto, di più. Per noi è un evento basilare nel calendario estivo. La mostra dura tutto il mese d'agosto e arriva fino al 3 di settembre, sarà aperta tutti i giorni e dà la possibilità di esporre a tanti artisti del Monte Feltro o che comunque sono legati al Monte Feltro. È una mostra molto importante e secondo me anche di una qualità molto alta. Altro obiettivo, questo non è un obiettivo secondario, noi vogliamo, siamo diventati ormai da tempo, c'è stata una vecchia mostra più importante che si chiamava Artisti della Carpegna, Artisti della Carpegna, per qualche anno si è fermata, l'abbiamo ripresa come ha sassolato la cultura e l'abbiamo denominata Artisti del Monte Feltro. Quindi qual è l'altro obiettivo? Punto di incontro di tutti questi artisti, che non esiste un punto di incontro dalla costa a Urbino fino a noi, Urbino a 50 km e quindi anche questo è un obiettivo importante. E siamo alla conclusione del nostro Tg, prima di salutarci diamo come sempre un'occhiata alla nostra prima serata che questa sera prevede Neron Art, quarta edizione a Piobbico, al Palazzo Brancaleoni, una mostra d'arte sulla quale abbiamo girato e proporremo questa sera uno speciale. Ricordiamo che domani l'informazione torna con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7.20 in diretta non solo sul canale 80 e sull'app ma anche sulla diretta Facebook e poi le repliche alle 8.20, alle 12.20, alle 14.20 e alle 18.20. E a questo punto è veramente tutto, vi lascio con le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata invitandovi come sempre a restare sempre sintonizzati sul canale 80 di Rossini TV. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.